Il Borghetto si aggiudica alla provaccia dopo un duello veramente molto agguerrito e deciso proprio all'ultima freccia. Che gara è stata? È stata una prova che ha dato delle buone indicazioni. Alla fine abbiamo espresso abbastanza bene nel tiro quello che facciamo anche in allenamento, ci siamo comportati abbastanza bene. Peccato per una freccia nella serie prima che ha battuto e andata fuori. Poteva magari essere finita anche prima, però è stata anche una prova in più lo spareggio per misurare anche un po' di più la pressione, un po' di tensione. I ragazzi si sono comportati abbastanza bene. Oggi non conta nulla. Ti dà il piccolo vantaggio di scegliere la distanza domani, ma domani sarà, come hai visto dalla provaccia, una gara aperta che si deciderà all'ultima freccia. Anche perché il livello è veramente molto alto? Molto alto, soprattutto fare 96 punti con 45 metri non è semplice. Ci vuole veramente grande capacità e grande freddezza e oggi si è visto che il livello è comunque alto.